Arriva il giorno del primo derby aretino dell'anno in eccellenza e per la Baldaccio Bruni non ci poteva essere un'occasione migliore per testare il buon stato di salute della squadra dopo la perentoria vittoria di Firenze della scorsa settimana. Mister Borgo anche questa mattina ha fatto sentire la sua voce. Il primo derby penso bellissimo perché probabilmente domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, noi cercheremo di farci valere, arriva una squadra molto forte, una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, però la nostra squadra giovane darà penso filo da torcere a tutti coloro che verranno qui allo stadio di Anghiari. L'impatto nel campionato lo possiamo considerare molto molto positivo. Sì, un impatto molto positivo, probabilmente nessuno ci credeva, il mister con i ragazzi hanno lavorato sempre e sodo tutti i giorni in qualsiasi allenamento e oggi come oggi posso ringraziarli perché stanno facendo veramente alla lettera quello che uno chiede. In casa Viola Castiglionese è previsto un buon numero di tifosi al seguito della formazione, non sono escluse novità nell'undici titolare. Da parte sua il Foiano sarà di Scena Prato e i ragazzi di Zacchei hanno l'opportunità di rifarsi con gli interessi dopo lo scivolone interno con il Figline. In vetta la Siena Lunghese è attesa dalla non facile trasferta sul terreno di Signa.